Grazie a tutti Sciopperò, 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 sciopperò Come facciamo a prenderle? A lottare, a sciopperare, abbiamo il diritto da sciopperare da oggi e prima ma poi anche domani, domani abbiamo un'altra lotta ragazzi, vi ricordate per favore, abbiamo un'altra lotta a scioperare e allarghiamo, allarghiamo, allarghiamo fino alla fine, allarghiamo, la battaglia non è finita, non è finita, basta sempre la vittoria! No, e no, e no! Logistica racista, lavoro da schiavista! Logistica racista, lavoro da schiavista! Logistica racista, lavoro da schiavista! Logistica racista, lavoro da schiavista!